Gentili telespettatori, buona giornata. Un Salvini diverso, un Salvini cambiato. È davvero cambiato Salvini la rinascita, la ricrescita della Lega? La Lega a livello regionale in Lombardia è cresciuta e ci sono delle proiezioni che vedono la Lega al 12%. È un qualcosa di diverso dal sondaggio, è una proiezione che stamattina vi ho fatto vedere di Amadori, un sondaggista, che secondo i voti regionali proietterebbe la Lega al 12%, proietterebbe il Movimento 5 Stelle al 9% con un crollo verticale e anche Calenda e Renzi al 4%, metà del loro voto. Sono delle proiezioni. Quindi si vede una Lega in risalita, ha fatto bene in Lombardia, ma gli ultimi sondaggi comunque davano una Lega sempre lì, intorno con la stessa percentuale delle elezioni politiche del 25 di settembre. Ma quelli sono sondaggi, il voto fa vedere una Lega al 16% in Lombardia, ma voi come sapete non puoi prendere il dato della Lombardia e dire che è il dato nazionale, perché se prendi invece il dato del Lazio è diverso, quindi bisogna stare attenti a fare delle proiezioni nazionali. Però sta di fatto che la Lega comunque ha arrestato la sua discesa. Salvini è cambiato. Oggi non ha le felpe, non ha le magliette, utilizza meno giubbotti da rally con le pubblicità, lo si vede spesso in giacca e cravatta. Le sue dichiarazioni sono misurate. Ci pensa prima di parlare. Non ha tutta questa presenza sui social, o perlomeno la presenza oggi sui social è quella che di media hanno anche gli altri. Oggi non commenta qualsiasi cosa, non commenta tutto quello che gli passa davanti, è più riflessivo. E poi oggi vuole dimostrare col Ministero delle Infrastrutture che lui riesce a cambiare l'Italia facendo ripartire tutti i cantieri. Che non è neanche male perché quello è l'unico ministero dove veramente puoi fare delle cose che hanno un riscontro nell'economia. Con gli altri ministeri insomma, gli altri ministeri sono un po' così. Quello che fai non ti porta da nessuna parte, esattamente. Ma con il suo ministero, con miliardi e miliardi bloccati per le opere pubbliche, eccetera, eccetera, lui può dimostrare di essere una persona che lavora e chi lavora poi porta dei risultati. Quindi lui è impegnato con il suo ministero. Poi ha avuto la sua più grande soddisfazione che comincia l'iter per questa famosa autonomia. Ovviamente non sarà l'autonomia quella che la Lega sogna, quella sorta di secessione economica del nord, dal centro-sud. Però si chiama autonomia e questo a lui basta per tirar fuori il bandierone, non del Milan, ma il bandierone dell'essere riuscito a portare un risultato che la Lega voleva da 30 anni. Che poi, come vi dicevo, non è veramente l'autonomia che loro credevano, però l'importante è dire all'elettorato che c'è l'autonomia. Ma oggi non c'è, è solo un progetto, ma solo quell'aver avviato un progetto fa dire ci siamo riusciti. E così Salvini è bello contento per la sua autonomia che oggi c'è solo virtualmente, ma c'è un inizio. È contento con il suo ministero, pertanto la Meloni lo ha portato dalla sua parte. Oggi in questi giorni non ha detto retta neanche a Berlusconi con le cose che diceva su Putin. Putin ha detto no, beh, io ho sempre votato in Parlamento quello che conta il voto in Parlamento. Ha tirato dritto, non ha commentato, non ha fatto battute che poi la stampa avrebbe ripreso. Ecco qua, è un altro Putiniano, bla bla bla. Non ha detto proprio niente, ha tirato dritto e ha lasciato cadere la stampa di sinistra che cercava, cercava, cercava l'alleato di Berlusconi per creare su un caso che non finisse più. Invece Salvini si tira indietro da queste polemiche. Per questo oggi il silenzio è d'oro. Lo ha capito, aveva già cominciato prima delle elezioni del 25 settembre con un atteggiamento diverso. E così lui, con la nuova strategia, la strategia del silenzio, meno si parla meglio è, poi alla fine è così. Chi più parla più rischia di sbagliare a dire qualcosa. Se tu non parli, non sbagli. Naturalmente se sei proprio muto come leader politico non è una gran cosa. Però lui cerca oggi di parlare il meno possibile. Matteo Salvini era l'uomo che da ministro dell'interno aveva fatto volare la Lega dal 17 al 34. Quello che poi senza ministero ha un po' perso la bussola e con lui il suo partito. E così ha tentato di rilanciare la Lega invertendo una tendenza che alle ultime politiche aveva visto la Lega scendere fino all'8,9% su base nazionale e al 13,9% in Lombardia. Oggi in Lombardia dal 13,9% ha recuperato 2,1 punti. E per lui è importante la Lombardia perché è la sua regione. È dove è nato. È dove principalmente la Lega bossiana era nata. aveva attecchito. Pertanto il rialzo in Lombardia per lui è stato comunque soddisfacente perché in molti pensavano adesso anche in Lombardia dal 13,9% che aveva in quella regione potrebbe scendere sotto il 10% e sarebbe un problema sempre più grande per lui e per la Lega. Invece c'è stata un'inversione di tendenza e è risalito di qualche punto percentuale. La sua leadership viene consolidata internamente. Nella realtà non è mai stata messa in discussione perché erano solo voci di corridoio messe in gira alla vigilia del voto. avevano legato un possibile tonfo in Lombardia con un passo indietro di Salvini. Ma è improbabile che il fondatore di un partito faccia un passo indietro. È possibile ma è molto improbabile. Abbiamo visto Rizzo del Partito Comunista fare un passo indietro. L'aveva fondato lui, il nuovo Partito Comunista. Qui questa nuova Lega l'ha fondata Salvini. È difficile che faccia un passo indietro il proprietario di un partito. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie. Grazie.